buon pomeriggio ben ritrovate ad un nuovo appuntamento con business leader è un percorso lo ricorderete bene almeno lo speriamo che abbiamo intrapreso qualche settimana fa per capire come cambia il lavoro come è cambiato il mondo del lavoro se ci fossero mai dei passaggi che ancora non abbiamo colto pienamente e come sta ulteriormente cambiando e come probabilmente ulteriormente cambierà il terreno di indagine sul quale stiamo provando a organizzare le nostre conversazioni appunto con i nostri ospiti è la distanza fra domanda e offerta la questione del mismatch che come vi abbiamo più volte spiegato è proprio la distanza che c'è tra le aziende che non riescono a soddisfare i loro bisogni di profili professionali e i lavoratori disponibili che sono caccia di occupazione ma spesso la caccia come dire avviene su un terreno di gioco non adatto a questi profili che si candidano ci sono probabilmente in circolazione dei curriculum insufficienti in adeguati in adeguati o spesso addirittura neanche mai presentati perché altrimenti non ci spiegheremo come mai appunto le aziende non riescono a trovare le persone di cui hanno bisogno il titolo che abbiamo deciso ridare a questa puntata è le regole di ingaggio e oggi questi cambiamenti di cui vi ho fatto tutta la premessa li osserviamo da un punto di vista particolare il business leader di oggi è alessandro donadio che salutiamo benvenuto associate partner e hr innovation leader di key to people e autore del libro hr evolution detto tutto correttamente perché mi preoccupo allora una lunga esperienza in azienda do anche io un'occhiata al curriculum e del naturalmente dell'ospite che lo hai trovato che portiamo sì esatto lo ho dovuto sintetizzare molto perché ovviamente le competenze in questo caso sono molteplici ha avuto una lunga esperienza in azienda nell'ambito dello sviluppo delle risorse umane della formazione poi è passato alla consulenza hr e allo sviluppo organizzativo anche un blog molto interessante adesso magari se la regia me lo manda in onda cominciamo subito a dare una sbirciata metallo organizzativi 2.0 il punto di riferimento sul tema della social enterprise che cos'è esattamente beh insomma cerca di descrivere come sono cambiate le organizzazioni dopo l'impatto del digitale e il cui effetto naturalmente si sente anche sul tema che stiamo in qualche modo dibattendo oggi quindi negli anni ho raccolto molte esperienze sul campo per cercare di portare sul tavolo dell'hr degli spunti per dirsi come diavolo sta cambiando questa organizzazione sotto sotto la sua sedia quali sono le nuove esigenze che hanno le persone e quali sono le competenze di cui si dovrà in qualche modo no approvvigionare negli anni negli anni successivi proprio perché le organizzazioni cambiano oltre a donadio di questo problema se ne devono occupare gli HR manager quindi le persone che si occupano di gestione del personale e di risorse umane all'interno dell'azienda noi banalizziamo ovviamente per semplificare molto il ragionamento però le figure delle quali appunto Alessandro si occupa sono proprio queste quando ci siamo sentiti per organizzare un po' la scaletta di questa trasmissione Alessandro mi ha spiegato il mio punto di osservazione è la seggiola dei HR manager come guardano alle risorse che devono selezionare e reclutare ecco qual è questo punto di osservazione speciale? Che cosa succede in queste poltrone? Succede che scottano un sacco nel senso che si fa sempre più fatica da quel punto di osservazione lì a cogliere che cosa succede nei prossimi 3-5 anni questa è la verità i modelli di business stanno cambiando ad una velocità davvero insostenibile le tecnologie gli accelerano perché rendono possibile all'avvio di una start up che può potenzialmente anche se tu non sarai troppo d'accordo fare saltare anche un intero modello finanziario bancario forse qualcuno lo sta già inventando Abbiamo visto anche questo in questi anni Abbiamo visto anche questo ma sappiamo anche di esempi importanti nel mondo del real estate non faccio nomi insomma della grande distribuzione è così le organizzazioni cambiano molto velocemente diversi sono stati tipicamente i tempi dell'HR maggiore capacità di prevedere, maggiore capacità di pianificare tutto sommato le competenze in entrata non erano molto difficili da mettere a budget sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo oggi è molto difficile perché il business cambia velocemente un'azienda che vuole stare sul mercato sta spingendo un'azienda di questo tipo, un prototipo di questo tipo sta spingendo per ridefinire i suoi modelli i modelli di business più efficaci sono quelli che arrivano al cliente a una velocità altissima e quindi tu ti immagini che le competenze interne sono competenze di esposizione di capacità di uso dei social media prevalenti di analisi del dato che è l'unico vero orientamento oggi che ha un professionista per capire se sta facendo bene o se sta facendo male quindi per sintetizzare, per tornare anche al titolo che abbiamo dato alla trasmissione le regole di ingaggio hanno completamente cambiato faccia decisamente, davvero c'è un'instabilità molto forte anche su ciò che motiva una persona, un buon professionista un buon profilo ad entrare nella tua azienda piuttosto che quella di un'altra noi poi parliamo sempre, questo è un settore in cui si parla sempre di talenti stiamo sempre sul mainstream, le grandi aziende se li contendono è pur vero che però le medie aziende che peraltro sono fra quelle qualitativamente più interessanti che producono cose estremamente interessanti, esportabili e che esportano tantissimo fanno fatica però ad attrarre un certo tipo di profili perché molto spesso non sono capaci di vendere il loro brand e di rendersi anche attrattivi nei confronti di possibili lavoratori appunto che possono dare il loro contributo adesso Alessandra a questo ci arriviamo però fammi un po' proprio il profilo dell'HR Manager in questo momento che tipo di caratteristiche deve avere perché peraltro in tutta questa rivoluzione piena di cambiamenti anche l'HR Manager deve adattarsi, non solamente gestire il processo di cambiamento e l'intermediazione che deve fare tra lavoratore ed azienda ma esso stesso appunto deve adattarsi alle sue competenze ci sono i HR Manager competenti oggi in maniera adeguata? direi di sì, direi di sì con la fatica che si stanno inventando naturalmente perché non esistono in questo momento dei percorsi formativi che impacchettano l'HR 4.0, l'HR del futuro però esistono degli HR persone, fammi dire così, che stanno studiando le cose giuste che stanno approfondendo gli ambiti giusti perché qual è qui il vero punto? il vero punto, infatti ho un po' scherzato sul libro perché dopo circa 150 pagine ho fatto un capitolo in cui ho scritto i libri di management non servono più a niente che li leggi a fare? l'ho scritto in fondo eccolo qua, intanto la regia prontamente ci ha mandato la copertina sì, e quindi in realtà il consiglio che sto dando a tutti gli HR è quello di riferirsi anche a delle discipline che sono sempre state un po' ancillari non dico assente ma ancillari per esempio gli studi sociologici sono fondamentali non puoi capire che cosa succede alla tua selezione ai tuoi sistemi di talent, di trattenimento cosa è più giusto e cosa è più efficace se non capisci come stanno evolvendo le generazioni quali sono le cose che gli interessano di più qual è, anche in questo caso, diciamo così come funzionano i passaggi generazionali nelle organizzazioni hai bisogno di studi solidi da questo punto di vista devi riferirti ad una branca dico appunto sempre utilizzata molto poco e poi naturalmente essere estremamente informato su che cosa sta succedendo nel mondo del digitale e in generale dell'innovazione tecnologica da lì arrivano cose che cambiano il tuo assetto organizzativo da sera a mattina c'è un altro compito a cui deve assolvere le HR manager del quale probabilmente si parla un po' poco perché noi abbiamo già dall'inizio focalizzato l'attenzione su aziende che cercano personale quindi le HR manager che fa selezione e recluta ma un altro compito che appunto dicevo è quello del quale si parla meno è la necessità di trattenere anche molto spesso il personale, quello valido che in un mondo così immobile in realtà magari è attratto dall'altro a un certo punto le persone vogliono crescere magari gli vogliono spostarsi e quindi deve anche espletare appunto questa funzione sì e questo peraltro attiene tantissimo alle nuove regole di ingaggio perché il vero tema è che diciamo questi profili così adatti al mondo di oggi sono profili che si associano anche ad un'attitudine non essere amanti di relazioni molto lunghe quindi tendono a non stare molto in azienda tu hai bisogno di tenerli il più tempo possibile non ci posso credere che oggi si possano formulare dei patti che durano per l'intera carriera professionale e però devi capire di che cosa hanno bisogno questi sono profili per cui conta stante naturalmente che la ritribuzione è un fattore igienico conta molto di più le esperienze che li potrai fare tutto ciò è la formazione che faranno i progetti di sviluppo ai quali saranno in qualche modo saranno invitati a partecipare perché? perché ciò che conta molto e questo sempre di più le nuove generazioni lo sanno più che avere una grande rally in uscita avere una grande employability quindi avere come dire allargato la tua dimensione di ruolo anche a competenze molto vicine d'accordo a quella nel quale ti sei formato nel tuo background perché questo ti consentirà di venderti meglio certo quindi i giovani tendono a pensare ad una carriera che salta becca da un'azienda all'altra e allora il nostro compito è cercare di farli rimanere il più possibile per far sì che lo scambio fra ciò che ti insegno e ciò che tu restituisci a menterni di valore e di performance è uno scambio equo d'accordo? e non sempre questo avviene andiamo al tema della relazione che un HR manager deve stabilire con un candidato ad entrare in un'azienda intanto chiaramente deve fare un'analisi delle competenze con l'avvento della digitalizzazione a non a 360 gradi a 2 milioni di gradi oserei dire è molto difficile appunto intuire se sono competenze adatte all'azienda che chiede questa professionalità c'è una slide che volevo mostrare che tra le varie che ci ha portato Alessandro è quella molto colorata chiedo alla regia sì queste sono le competenze chieste appunto ai laureati possiamo fare proprio un'analisi rispetto a come dire cosa c'è di qualità che un laureato appunto può presentare come biglietto da visita e che esula un po' anche proprio dalla competenza tecnica in realtà l'azienda chiede molto altro il digitale si va bene ma c'è anche un po' proprio una certa flessibilità le cosiddette soft skill delle quali parliamo molto spesso sì ma guarda qui sai che cosa succede anche questo l'ho osservato e cercato di catturare in qualche modo spiegare nel libro il digitale sta chiamando ancora di più le soft skill perché il digitale cambia sostanzialmente il sistema di relazioni questo è quello che ha fatto quindi la velocissima capacità di accedere a dei contenuti a connetterti con le persone si deve trasformare in qualcosa quindi flessibilità, adattabilità, curiosità voglia di apprendere in modo anche estremamente trasversale l'attitudine a sperimentare anche velocemente anche quando non sei immediatamente pronto quindi ci va anche una dimensione di trust se vuoi fra l'azienda e la persona che in qualche modo dia dignità per esempio alla logica dell'errore cioè ci sono una serie di componenti comportamentali di attitudini che sono sempre più importanti quindi se io ti ho testato dal punto di vista delle tue competenze dei tuoi digital skill più di base cioè sai usare i social sei in grado di diventare un'app conosci l'ecosistema digitale il titolo accademico l'abbiamo portato tutto il resto però come fa a valutarlo le HR manager? che competenze lui a sua volta deve mettere in campo per intercettare anche queste attitudini queste qualità in una persona? deve usare maggiori strumenti naturalmente perché ci sono strumenti che gli consentono di... cioè lo aiutano in questo i tradizionali assessment forse non funzionano più però le versioni più aggiornate delle modalità di assessment che consentono di mettere la persona dentro delle sperimentazioni delle prove estremamente veloci e questo è un mondo estremamente interessante perché stanno nascendo molte start-up che propongono dei modelli di testing di questo tipo con dinamiche anche molto gamificate e ti dico fra quelle che non sono dei piccoli giochi giochi per bambini intendo dire diciamo start-up che si fondano su logiche psico-psico comportamentali solide ma che stanno immaginando delle experience nuove ecco lì l'HR deve mettere il naso perché c'è molto per lui lì d'accordo? perché già un assessment come questo è già di per sé estremamente attrattivo per giovani o anche meno giovani ma comunque con attitudini estremamente digitali perché amano essere testati in questa modalità e per lui naturalmente è un risponso importante sperimentare la persona magari in una dinamica di gestione di un budget complesso oppure di attivazione di una relazione di un certo tipo col cliente da questo possono arrivare una serie di dati intanto volevo anche visto che probabilmente dal grafico che abbiamo mandato forse non si leggeva benissimo questo è anche molto interessante che in realtà è un pannello credo di un evento su Milano di un convegno ma che ci racconta effettivamente adesso non riusciamo a leggere benissimo quello che è il trend del mercato del lavoro il punto è noi oggi facciamo studiare i nostri ragazzi e non sappiamo bene che tipo di professione faranno fra 5 anni l'ho molto sintetizzato questo concetto appunto espresso da questo cartello ma Alessandro il punto vero di sfida anche del lavoro degli HR manager è oggi capire fra 5 anni di che tipo di professionalità avrà bisogno l'azienda per la quale si effettua questo tipo di consulenza e indirizzare se vogliamo anche un po' un imprenditore in questo senso ah sicuro sicuro questa è un'altra competenza del ruolo HR estremamente cruciale perché l'imprenditore può non avere chiara diciamo così quale può essere l'evoluzione del suo capitale umano in azienda tipicamente per l'imprenditore o i top manager diciamo così il fattore lavoro e lascio stare il tema delle relazioni perché un imprenditore può avere relazioni estremamente umane ed etiche con le sue persone ma non necessariamente considerarlo come il centro del suo business l'HR invece può insegnare questo all'imprenditore se però si fa intelligente se si fa propositivo se gli porta un racconto di ciò che le nuove competenze per esempio sui data analytics come queste competenze possono migliorare la capacità di fare business intelligence bisogna che anche l'HR sia bravo a raccontarla portando dati di nuovo qui il tema dei trend sociologici conoscendo la tecnologia non cascando sul pelo della tecnologia ah ma oddio c'era l'intelligenza artificiale certo che c'è l'intelligenza artificiale tre quarti delle selezioni oggi o delle start up che nascono nel mondo del recruiting stanno utilizzando ma infatti alessandro il punto adesso io ti interrompo brutalmente proprio perché mi stuzzica questa tua considerazione sembra che questa rivoluzione della quale non facciamo altro che parlare si stia consumando da un giorno ad un altro e ci sta calando un po' addosso in maniera traumatica perché in molti concettualmente siamo ancora così impreparati anche a tutto quello che è l'implicazione nel mondo del lavoro beh noi non ci abbiamo lavorato su dal punto di vista forse la butto troppo in aria come palla però non è stato un tema di nostra politica industriale in questo paese il digitale questa è la grande verità da qualsiasi parte si sia ragionato si è approcciato come avremmo anche il digitale il digitale invece non si è posto nel sistema di mercato è come se la manifattura con il digitale non avesse nulla a che fare quindi essendo un paese magari dal punto di vista economico avvocato ad un certo settore ad un certo modo di fare azienda allora si pensava che quello fosse tutto ma che sarebbe arrivato dopo ma chi lo sa invece l'industria 4.0 è proprio punta proprio alla manifattura e vuole rivoluzionarla perché appunto la rivoluzione digitale ha rivoluzionato i modelli di business ecco perché siamo dentro tutti e a questo punto noi ce l'abbiamo un vero tema anche di formazione e di indirizzo le materie STEM siamo debolissimi sono debolissime per esempio sono debolissime per esempio le iscrizioni in termini di fattore di genere delle ragazze e per noi questo non la butto non la butto solo sul tema etico faccio un po' il pragmatico le ragazze sono estremamente più brave dal punto di vista del possesso delle materie STEM e tutti i test ce lo dicono ma poi quando vanno a iscriversi all'università finiscono in giurisprudenza o materie più umanistiche penso che nessuno gli stia raccontando che ci devono credere che c'è un mercato è un problema tipicamente italiano o ritieni che sia abbastanza equamente distribuito anche fra altre economie? è un po' più italiano però diciamo che diciamo che diciamo che l'economia renana un po' soffre ecco di questo di questo bias che ci teniamo un po' un po' il bias del digitale è in tutta questa economia ancora abbastanza forte in Italia però ha assunto delle proporzioni a questo punto anche abbastanza emergenziali le università devono produrre di più ma non basta non serve una grande alleanza fra aziende business school per il post universitario le università stesse tutti i programmi che vanno già ad insegnare coding ai ragazzi nelle fasi diciamo così liceali se non addirittura prima insomma qui va messo in campo molto noi abbiamo tentato di dare una risposta a questo problema e ne abbiamo parlato anche delle puntate precedenti con per esempio le cosiddette academy all'interno delle agenzie che si occupano di colmare quell'ultimo miglio quando una persona magari è laureata tutti i titoli per poter entrare in un'azienda manca però appunto quel passo in più necessario a coprire proprio esattamente la posizione che un'azienda rende disponibile quindi le agenzie per il lavoro per un determinato periodo di tempo formano in questa ultima parte mancante le persone tu cosa ne pensi di questa penso che sia necessario io tra l'altro insegno in diverse business school in Italia quindi ho molto presente il valore che stanno chiedo scusa che stanno dando al sistema è un valore ineliminabile perché le università per come sono fondate oggi sul loro modello didattico non saranno in grado di produrre degli specialismi gli specialismi necessari e d'altra parte forse al limite non è il loro mestiere perché abbiamo detto che non possiamo produrre troppi specialisti alla base dovremmo paradossalmente produrre dei buoni generalisti che possono poi nel corso della vita fare delle incursioni verticali su alcuni ambiti ma anche cambiare velocemente potessi permettere anche un po' di flessibilità appunto sì e anche intercettare il fatto che questo è un altro grande trend se vogliamo della nostra contemporaneità che io per dieci anni possa voler fare l'ingegnere ma nei dieci successivi è un uomo del marketing non è che ci si improvvisa si fanno dei cambiamenti si devono fare delle transizioni importanti però il sistema deve poter consentire questo anche perché si diventa molto più efficaci in azienda si hanno per esempio un marketing manager che ha esperienza di prodotto magari anche dal punto di vista tecnico estremamente importante allora le academy e tutto il sistema diciamo così didattico di secondo livello è fondamentale perché gestisce può gestire questo cuscinetto di adattamento e poi anche le aziende al loro interno le più grandi aziende sono dotate di academy mi fanno una formazione continua questo è un modello che va portato anche sulle medie aziende non è più così costoso gestire una dinamica di questo tipo si può anche qui usare il digitale quindi porterei all'attenzione anche delle medie aziende l'opzione che molta formazione possono farla dentro per gestire quel miglio di adattabilità interna allora abbiamo stressato molto l'aspetto delle competenze richieste ai laureati e quindi abbiamo capito cosa chiedono gli imprenditori su che cosa stressano nei colloqui di HR manager appunto i candidati ma i candidati invece quando si presentano in un'azienda con che tipo di aspettativa lo fanno tu incontri tanti ragazzi appunto che istruisci in qualche maniera e prepari a questo nuovo mondo nei vari master appunto che ti capita di coordinare che idea hanno del mondo del lavoro allora secondo me hanno un'idea che comincia a rendersi confusa diciamo perché è chiaro che nascono in un contesto in un ecosistema nel quale per esempio l'accesso all'autoformazione è estremamente semplice nella quale creare connessioni con community professionali è estremamente semplice fare esperienze anche interessanti ed ingaggianti è estremamente semplice se sei proattivo lo puoi fare l'azienda ha meccanismi che ancora invece tendono a molto mortificare queste istanze quindi si devono semplificare all'interno per garantire questa opportunità i candidati hanno bisogno di pensare che andranno a fare un'esperienza estremamente forte estremamente edificante e questo è un punto di ingaggio importante in quello che noi chiamiamo contratto psicologico che nel tempo è estremamente cambiato nel libro ne parlo ma altrimenti non è una mia invenzione noi abbiamo preparato anche se la regia lo ha preparato per l'appunto un cartello sul tema della qualità del lavoro perché anche questo è un tema di regola di ingaggio vista dalla parte del lavoratore che vuole un certo equilibrio anche nell'ambiente di lavoro una certa qualità di vita senza scendere a patte naturalmente con il suo impegno no no assolutamente anzi questo va in qualche modo a maggior ragione garantito e addirittura promosso che un'organizzazione non ha bisogno in qualche modo non sta cercando di creare una relazione che sia totalizzante dal punto di vista del lavoro d'accordo e qui che le logiche anche smart tendono a venire in aiuto d'accordo il fatto che tu possa anche gestire meglio al tuo bilanciamento fra il tempo che passi in azienda e il tempo che passi a casa che sposti la tua dinamica di relazione con l'azienda dall'esecuzione di un task alla produzione di un risultato e quindi dove ti muovi in che orari ti muovi sei in qualche modo più libero di innestare degli elementi che invece sono degli elementi che tipicamente avremmo detto di vita personale che però insegnano creano meglio la persona professionista poi la persona si può portare tutte queste cose anche nell'attività professionale molte aziende già tutto questo lo fanno però lo raccontano male io ho questa percezione anche le medie imprese sono più flessibili di quello che noi crediamo sulle piccole andrebbe fatto un altro ragionamento ma sulle medie c'è tanto potenziale si usa poco e si racconta e si racconta male se si sintetizzassero questi due come delle leve e dei fattori di attrazione forte secondo me anche in quella fascia di impresa potremmo portare le migliori professionalità e un po' rilanciarlo quell'ambito se volete certo Alessandro perché dovremmo leggere ma magari non tutti perché io al momento non ho intenzione di candidarmi come HR manager in qualche azienda ma magari per chi fa anche un lavoro diverso qualche spunto interessante lo trova? Allora secondo me sì ti dico anche perché qui parli ad un certo punto di fit culturale fra organizzazione e persone che cos'è questo concetto? Il fatto è che noi tendiamo come reclutatori tendiamo a come posso dire a sincronizzare gli aspetti hard cioè sei un ingegnere mi serve un ingegnere sai di questo codice mi serve di questo codice non ti raccontiamo mai come siamo fatti noi che tipo di cultura abbiamo siamo formali informali ci teniamo ci teniamo le nostre simbologie oppure no le persone che poi entrano in azienda scoprono che c'è un mondo e non sempre l'adattabilità è così è così veloce e lì c'è un costo importante per le aziende di nuovo raccontati bene ditti subito come sei fatto rendi un pochino più trasparenti le pareti della tua azienda così la persona sa anche in che contesto culturale può entrare secondo me allora a parte la parte centrale che è estremamente tecnica e in qualche modo necessaria anche questa però la parte iniziale la prima parte traccia uno scenario di come cambiano le organizzazioni secondo me può essere molto utile a tutti noi che in qualche modo lavoriamo più o meno a diverso titolo le organizzazioni e la parte finale è stato un ulteriore slancio verso il futuro per dire ok detto che sistemiamo questo cosa sta arrivando perché stanno arrivando una serie di altre cose su cui fasarsi quindi lo consiglio benissimo gli ultimi 30 secondi allora per segnalare che ad un certo punto del libro a pagina 54 si parla anche di contratto psicologico fra persona e organizzazione non svelo altro magari questo costituirà il tema di una nostra prossima chiacchierata grazie ad Alessandro Donadio per essere stato il business leader di oggi grazie a te e noi ci rivediamo alla prossima puntata a lunedì prossimo buon pomeriggio a tutti grazie a tutti